E' stato fatto un grande lavoro, ovviamente non sufficiente, per cui ora si sarebbe pronti a un nuovo ristoro. 252 milioni di euro arrivati tra novembre e dicembre a 56.398 imprese del Veneto. Il sottosegretario agli interni, Achille Variati, fornisce i calcoli aggiornati sul tema dei ristori. Questione che scalda gli animi perché da più parti sono giudicati tardivi e insufficienti. Che non bastino lo ammette anche lui. È il motivo per cui mercoledì alla Camera è previsto di votare uno scostamento dal pareggio di bilancio. 32 miliardi di euro in più, anche per finanziare la cassa integrazione e rallentare la riscossione delle tasse. Il problema è che di mezzo c'è la crisi di governo che rischia di rallentare la macchina degli aiuti. Se il governo Conte lunedì e martedì alle Camere non ottiene la fiducia, ahimè, tutto si complica, tutto si rinvia. Purtroppo la politica non è una partita di poker, la politica non è mercato, la politica è responsabilità e servizio. Questa crisi è una crisi irresponsabile. Secondo lei, sottosegretario, adesso che succede? Mi auguro che il Parlamento dia la fiducia al Presidente Conte per consentire appunto di procedere sulla strada dei ristori, sulla strada dell'attenzione finanziaria, fiscale, agevolativa di un Paese che è in ginocchio. Grazie. Grazie.